Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di TRM H24. In apertura di questa edizione la cronaca con la notizia di una tragedia avvenuta nella tarda mattinata di ieri in un lido di Margherita di Savoia dove un bambino di soli 6 anni ha perso la vita per annegamento durante i giochi in acqua di un campo estivo. I dettagli nel servizio. Avrebbe compiuto 7 anni il prossimo 21 luglio il bambino di origini rumene, nato a Cerignola ma residente a Canosa di Puglia, morto tragicamente per annegamento nelle acque antistanti il lido paradiso dei giovani di Margherita di Savoia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il piccolo si trovava nel lido perché impegnato nelle attività di un campo estivo e stava facendo giochi in acqua nei pressi della riva insieme al gruppo di partecipanti alla colonia quando sarebbe annegato. Ad accorgersi del corpicino riverso nell'acqua sarebbe stato un bagnante che avrebbe subito allertato il bagnino. Quest'ultimo ha trovato il piccolo già privo di sensi e lo avrebbe portato sulla battigia dove avrebbe attivato le prime procedure di soccorso del caso. Oggi purtroppo un giorno che il 118 vorrebbe che non si verificasse mai. L'uomo avrebbe poi fatto allertare immediatamente il personale del 118 che in breve tempo è giunto sul posto. Il soccorso è arrivato per tempo, ha posto in essere tutte le procedure di reanimazione cardiopolmonare avanzata previste, e supportato anche in simbiosi, in sinergia, dal soccorso Foggia che prontamente è stato anche fatto arrivare per tempo. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sotto sciocca il titolare del Lido che ha chiarito come il sistema di soccorso abbia funzionato senza intoppi e ritardi e che si sia trattato di una tragica e inspiegabile fatalità. Al momento non si esclude alcune ipotesi dal malore improvviso ad una patologia congenita mai diagnosticata, anche se in questa fase a dominare la cautela. Credo che sia prematuro, è opportuno fare le cose sempre con massima correttezza e dare i tempi tecnici al giudice in questo caso e al medico legale. Si attende ora la relazione del medico legale. Potrebbe essere aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio colposo per mancata vincilanza su minore. Le indagini faranno leva sulle testimonianze raccolte sul posto. Sono stati ascoltati infatti i responsabili della colonia estiva, sia sui rilievi dei carabinieri della SIS, la sezione investigativa scientifica dell'arma. Cambiamo adesso argomento. Il presidente dell'Anci, il sindaco di Bari, Antonio De Caro, ha illustrato a Roma lo stato dell'arte circa la capacità di spesa dei comuni dei fondi del PNRR. Nessun ritardo da parte nostra, ha detto De Caro, che ha mostrato una serie di dati che dimostrano come ai comuni sia stato già assegnato il 91% dei 40 miliardi che spettano loro. I numeri dicono che non c'è ritardo di spesa dei fondi del PNRR da parte dei comuni. Lo ha detto Antonio De Caro, presidente Anci e sindaco di Bari, a Roma durante l'evento Missione Italia, promosso dall'Associazione dei Comuni, durante il quale è relazionato sullo stato dell'arte della spesa dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Alla data del 31 maggio scorso, ai comuni sono stati assegnati 36,3 miliardi di euro, cioè il 91% della dotazione finanziaria che era prevista per i comuni. Dobbiamo ottenere 40 miliardi di euro, ci sono stati assegnati 36,3 miliardi di euro. Vuol dire che abbiamo fatto i progetti, abbiamo partecipato ai bandi e le risorse sono state assegnate a seguito delle progettazioni. L'ANAC certifica che da luglio del 2022 a metà giugno del 2023 in tutta Italia e da parte di tutti i soggetti attuatori sono state bandite 102 mila gare d'appalto finanziate dal PNRR o dal PNC. I comuni hanno fatto 52 mila di queste gare, cioè il 51% del totale delle gare sono state bandite dai comuni. L'altro 49% è distribuito tra tutti gli altri soggetti. Lasciateci lavorare, ha aggiunto De Caro, rivolgendosi a chi ha sollevato più di qualche dubbio sulla capacità di spesa dei comuni, puntando il dito contro chi ha indicato i sindaci come responsabili dei ritardi del PNRR. I comuni, grazie ai fondi del piano, riusciranno, secondo il presidente Anci, a superare il divario nord-sud perché è proprio nelle città del sud che sta arrivando la maggior percentuale di finanziamenti e questo, ha detto De Caro, non è un caso. In chiusura del suo intervento, De Caro ha chiesto semplificazione anche per le opere non finanziate dal PNRR, richiedendo una conferenza di servizi a 30 giorni per poter accelerare ancora di più sulla spesa e sulla realizzazione delle opere. E per il terzo anno consecutivo la Puglia si conferma prima in Italia per l'eccellenza delle sue acque di bagnazione. L'assessore all'ambiente Maraschio ha detto è un risultato di un importante lavoro di squadra. Ascoltiamo. Aspira ad ottenere il 100% la Puglia che per il terzo anno consecutivo si conferma prima in Italia per la qualità delle sue acque di bagnazione seguita da Sardegna, Molise e Toscana. Il risultato delle analisi microbiologiche condotte nel corso di quattro anni dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha quindi confermato l'eccellenza delle acque pugliesi per il 99,8%. È veramente una grande soddisfazione per il terzo anno consecutivo. Quindi è un risultato ancora più importante perché mantenere quel risultato non è facile. Siamo davvero i primi in Italia per qualità delle acque di bagnazione. Quindi veramente siamo molto felici. È una gioia per tutta la Puglia, per il lavoro straordinario che è stato fatto in questi anni, che si sta facendo in questi anni. Investimenti significativi e poi tanto altro ancora i controlli, i controlli di ARPA ma anche una sinergia incredibile con il lavoro dell'assessorato. Questo dato è un dato scientificamente inoppugnabile perché è fatto da ARPA e perché appunto non si basa su prelievi che vengono fatti diciamo in maniera ridotta ma invece in maniera significativa e quindi è un dato importante. A livello europeo inoltre le acque italiane risultano migliori nella media dei paesi europei. Intanto sono già iniziati nuovi monitoraggi del 2023 che continueranno per tutta la stagione estiva. Noi diamo la qualità scientifica, lavoriamo sul mare tutto l'anno, lavoriamo in mare quando andiamo a fare i campioni, in laboratorio quando andiamo ad analizzare quasi 9.000 determinazioni analitiche all'anno e poi vorrei dire anche in fase di prevenzione perché nelle conferenze di servizi, nelle autorizzazioni cerchiamo di essere molto rigorosi perché questo consente poi di esercitare quel fenomeno di prevenzione che è uno degli obiettivi fondamentali perché con la sola repressione, con i soli controlli noi possiamo migliorare ma non possiamo confermarci stabili come in questi tre anni se c'è un'intera strategia che quindi porta avanti a tutti i livelli migliorare la depurazione, aumentare i controlli e intervenire nella fase autorizzativa per fare in modo che gli investimenti ci siano ma siano sempre sostenibili. E a Foggia invece è emergenza rifiuti con cumuli di immondizia ammassati in strada vicino ai cassonesti che sono già ricolmi. La difficoltà di conferimento dei rifiuti nel biostabilizzatore di passo breccioso infatti sta rallentando la raccolta in tutta la città. Vediamo. Quel che si temeva è accaduto dall'inizio della settimana Foggia e le prese con l'emergenza rifiuti le immagini sono chiare immondizia fuori dei cassonetti ricolmi in centro come in periferia la situazione è preoccupante emergenza preventivabile dopo il cortocircuito creatosi nel biostabilizzatore di passo breccioso che da tre settimane sta condigentando l'accesso per lo scarico dei rifiuti raccolti nel capoluogo Dauno e in più di un centro della provincia. Non dipende da noi puntualizzano in amio par di capire che i rifiuti non vengano raccolti perché non possono poi essere smaltiti una situazione già verificatasi in passato che quindi appare non risolta visto il suo ripetersi. Davvero brutto lo scenario che si presenta al CEP con i cumuli di immondizia a pochi metri dagli scivoli e dai giochi del parco per bambini l'impasse rifiuti con il caldo africano di questi giorni rischia seriamente di creare un'emergenza sanitaria con conseguenze preoccupanti. E sarà presentato è stato presentato a Bari il progetto Puglia Digital House per promuovere la regione Puglia come nuovo distretto nazionale per tutto il mondo dell'impresa innovativa. Vediamo. Promuovere la regione Puglia come nuovo distretto nazionale per tutto il mondo dell'impresa innovativa attraverso il brand Smart Puglia è questo l'obiettivo della neonata collaborazione tra l'amministrazione regionale pugliese e il gruppo editoriale City News che si traduce nel Puglia Digital House un canale online che sarà presentato il prossimo 12 luglio nella sala Fedora del Teatro Umberto Giordano di Foggia. Parlare di digitale parlo a Foggia significa creare le condizioni perché il digitale riesca a permeare in tutto il tessuto del nostro territorio far sì che si investa sulle competenze in ogni luogo perché l'innovazione e la tecnologia consentono di poter realizzare un'idea innovativa in qualsiasi punto della regione quest'area in questo momento anche grazie alla presenza dell'ITS e dell'Università di Foggia stanno crescendo moltissimo vogliamo provare a confrontarci anche sulle sfide del futuro quelle di intelligenza artificiale confrontarci con big player internazionali per capire anche quale traiettoria prendere e come coinvolgere le piccole e medie imprese del nostro territorio. Sono contentissimo che l'evento principale l'evento di punta si terrà a Foggia perché in questo modo la regione e City News il gruppo editoriale dei nostri quotidiani Foggia e Bari accendono un riflettore sul tema dello sviluppo delle politiche dello sviluppo delle imprese sulla città di Foggia su un territorio che è quello della Capitanata un territorio complesso un territorio difficile anche da un punto di vista orografico forse diciamo in espresso ragion per cui io questo appuntamento Puglia Digital House questo progetto lo vedo più che altro come un segnale e parliamo adesso di arte perché farà tappa anche in Puglia il progetto installativo Two Edge due bordi al limite di Angelo Gallo e a cura di Simona Spinella che insieme a Giuseppe Capparelli ne ha scritto i testi critici la mostra sarà inaugurata al Museo dei Bretti e degli Enotri di Cosenza il prossimo 14 luglio e successivamente farà tappa in diverse città italiane ed europee tra cui proprio Bari il progetto è promosso da Ed Project di Angelo Azzurro Ollus ed è un omaggio al curatore di AED Piero Gagliardi che assieme a Gallo ha ideato l'iniziativa e adesso lo sport in chiusura con il volley torneo dei due mari al Palamazzola di Taranto seconda vittoria consecutiva per l'Italia Giappone KO per 3 ad 1 sentiamo i ragazzi di Fanizza centrano il bis seconda uscita al Palamazzola di Taranto e seconda vittoria consecutiva per l'Italia stavolta per 3 a 1 contro il Giappone partita condotta al limite della perfezione dagli azzurri per i primi due set il primo finisce 25-18 con la nazionale del sollevante un po' troppo fallose in attacco il secondo 25-21 con l'Italia che regge benissimo il ritorno degli avversari il Giappone riapre con merito il match nel terzo set vinto per 22-25 l'Italia però aumenta i giri del suo motore nel quarto parziale liquidando la pratica con un perentorio 25-18 la seconda vittoria consecutiva nel collegiale in corso in Puglia regala la testa del torneo ai ragazzi di Fanizza la nazionale vuole chiudere quindi in bellezza l'esperienza pugliese nell'ultimo match contro la Tunisia che si disputerà alla Palasport di Francavilla Fontana che effetto le fa avere due nazionali così forti a livello mondiale? ma io sono veramente orgoglioso abbiamo solo bisogno di lavorare con tranquillità perché i nostri staff sono di primissimo livello avete visto qui ci sono degli allenatori che vengono anche dagli altri paesi a fare esperienza con noi significa che il livello dell'Italia da un punto di vista tecnico oltre che organizzativo è importante TRM Network seguirà oggi a partire dalle 20 la prediretta della partita e poi alle 20.30 la telecronica diretta d'Italia Tunisia gara decisiva per la conquista del torneo internazionale dei Due Mari e questa era la nostra ultima notizia l'appuntamento con l'informazione di TRM H24 e con la prossima edizione del nostro telegiornale buona giornata grazie a tutti